Ben trovati a Orso Toro, approfondimento quotidiano di Rai News. Giovedì scorso, trovato l'accordo tra i ministri di Ambiente e Sviluppo Economico, Prestigiacomo e Romani, è stato approvato il provvedimento per la revisione degli incentivi al fotovoltaico. Il decreto prevede un indennizzo per chi, installati i pannelli, riceve in ritardo l'autorizzazione per l'allaccio alla rete. Ne parliamo con uno degli addetti ai lavori, collegato dalla sede Rai di Venezia, Giuseppe Sofia, amministratore delegato di Conergy, uno dei principali produttori nel settore del fotovoltaico. Benvenuto a Rai News. Buonasera. Naturalmente noi sentiremo anche la voce che abbiamo raccolto con il nostro inviato Matteo Parlato di altre società impegnate nel settore. Allora Sofia, prima di tutto le chiedo una fotografia del settore, insomma problemi e prospettive anche alla luce del Salone di Verona. Poi affronteremo insieme la girandola di opinioni che si è scatenata dopo che il provvedimento per la revisione degli incentivi al fotovoltaico è diventato realtà. Il 2010 è stato un anno storico per il fotovoltaico che ha visto un'espansione veramente molto importante. Il 2011, ahimè, ha visto stroncare un po' le speranze degli operatori in seguito a un primo decreto emanato inizio marzo che poneva dei forti limiti appunto all'espansione del settore. Questo decreto di inizio marzo ha creato una sospensione del mercato che ha durato proprio fino ai primissimi giorni della fiera. Tanto è vero che il Solar Expo, la fiera più importante del settore in Italia che ha iniziato mercoledì scorso, è iniziata appunto in una situazione di sospensione dal punto di vista della normativa regolante e gli incentivi. Il primo giorno della fiera infatti è stato abbastanza amesto con gli operatori che condividevano più pensieri di preoccupazione che di opportunità e poi giovedì, secondo giorno della fiera, è stato il giorno in cui è stata annunciata finalmente la firma del decreto. Questo da un giorno all'altro ha trasformato l'ambiente in fiera e si è cominciato a parlare finalmente di progetti. Ecco, ora questo nuovo decreto è stato accolto con molta soddisfazione dagli operatori poiché dà visibilità al mercato del fotovoltaico per circa cinque anni fino alla fine del 2016. Sì, su questo parleremo, Sofia. Intanto diciamo che si è conclusa Verona, lei lo diceva, la tre giorni dedicata ai temi dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e della bioedilizia. Matteo Parlato ha sentito Massimo Sapienza, presidente di Asso Energie Future, l'associazione che rappresenta tutti i grandi operatori presenti sul mercato nazionale e internazionale, che non sembra troppo entusiasta del decreto. Allora sentiamolo. Le rinnovabili in Italia sono state un piccolo miracolo. Abbiamo attraversato la crisi economica creando un settore industriale. Qui a Verona, 4-5 anni fa, avevamo pochissimi stand, era un evento per pochi intimi. Oggi è un evento da 100.000 visitatori, 1.400 espositori, migliaia e migliaia di aziende, 150.000 lavoratori. Stavamo andando a gonfie vele, anche sulla base del terzo conto energie emanato dal governo in agosto. Purtroppo, due mesi fa, il decreto legislativo rinnovabile, il decreto romani, ha posto uno stop gravissimo a tutti gli investimenti in corso. Dal 1 giugno non ci sono più incentivi sul fotovoltaico, che è la tecnologia rinnovabile che tira di più, e quindi tutto quello che vedete intorno a me in questa fiera sostanzialmente non ha più una certezza. I 150.000 lavoratori, le oltre 2.000 aziende del settore, non sanno che futuro avranno. Questo è un settore che può dare moltissimo al nostro paese. Già oggi abbiamo 150.000 lavoratori e 2.000 aziende. È un settore che può arrivare oltre il mezzo milione di lavoratori in 3-4 anni. È un settore nel quale il numero dei brevetti può crescere in maniera esponenziale. Gli italiani siamo stati grandi in tutte le tecnologie rinnovabili, e possiamo tornare a esserlo perché la ricerca in Italia è sempre stata leader. È un settore che può portare benessere in termini di diversi punti percentuali di PIL. Già oggi si conta che valiamo il 0,5% del PIL, possiamo arrivare a 3-4 punti percentuali di PIL in 2-3 anni. Uno dei rischi per la ricerca italiana è di essere sorpassata da altri paesi, la Germania e il Giappone, che stanno investendo in maniera importantissima, gli Stati Uniti con il loro piano di green economy. In questi anni cruciali si gioca il destino del secolo futuro, che sarà il secolo delle rinnovabili. Se noi non investiamo, se non ritorniamo a prenderci un posto di primo piano, siamo condannati a essere provincializzati. Sofia, allora ha sentito il commento di Massimo Sapienza. I primissimi commenti sul decreto sono stati positivi, ma poi man mano che passava il tempo sono cresciute anche le reazioni negative, sia da parte delle aziende, sia delle associazioni. Lei cosa ne pensa? Questo conto energia premia gli impianti medio-piccoli, soprattutto su tetto, e non premia, anzi crea delle limitazioni importanti ai grandi impianti sul terreno. Nel corso del 2010 il fotovoltaico in Italia si è sviluppato fortemente sui grandi impianti sul terreno, per cui evidentemente questo conto energia delude le aspettative di quegli operatori che puntavano tutto su impianti su grande scala, come detto per appunto sul terreno agricolo. Parte degli operatori, e qui mi sento di condividere questi pensieri, credono nel fotovoltaico su copertura, sul tetto, un fotovoltaico che si installa dove c'è il consumo elettrico, che consente quindi la produzione e il consumo di energia a chilometro zero. Crediamo in un fotovoltaico che si sviluppa su superfici non pregiate, quali possono essere per appunto le coperture sia residenziali che industriali. Ecco, il quarto conto energia premia il fotovoltaico distribuito, gli impianti medio-piccoli su copertura. Evidentemente alcuni operatori gioiranno di questo, alcuni un po' meno. Direi che la cosa importante è che la quantità totale di installato che il governo aspira con questo conto energia è molto importante. Parliamo di 23 gigawatt di installato da qui a fine 2016, che è tre volte di più degli 8 gigawatt che erano riferimento per il conto energia scorso. Però, chiedo scusa, Sofia, c'è appunto chi gioisce per questo decreto, c'è invece chi è meno soddisfatto. Leopoldo Franceschini, amministratore delegato di Ecoware, Ecoware, un'azienda di sistemi fotovoltaici completi, rivela sempre al microfono di Matteo Parlato perché il fotovoltaico ha anche i suoi nemici. Sentiamo. Guardi, il fotovoltaico in Italia ha la possibilità di sostituire almeno il 15% del fabbisogno elettrico nazionale. Oggi siamo in percentuali assolutamente minori, quindi lo spazio di crescita è enorme. È evidente che questa sostituzione avviene a scapito di altre fonti di energia, quindi noi andiamo a sostituire con costi più convenienti altre forme di energia più costose. E questo non è, come dire, gradito, soprattutto a coloro che hanno investito in grosse centrali a ciclo combinato, a gas o altro. Sofia, sono in molti a sostenere che gli incentivi non siano sufficienti e che non sia sufficiente neppure il tempo previsto per spalmarli, per così dire. Secondo lei, ecco, ci aiuta a capire meglio? Il fotovoltaico ha avuto bisogno fino a quest'anno di incentivi abbastanza importanti per poter essere una soluzione energetica sostenibile. Senza incentivi, ancora ad oggi, il fotovoltaico non sarebbe una soluzione energetica soddisfacente. Ecco che un quadro di incentivi a decrescere può consentire al fotovoltaico di impegnarsi, diciamo, il fotovoltaico inteso come industria fotovoltaica, ad impegnarsi per una riduzione dei costi che possono portare questa splendida tecnologia a poter competere con altre forme di produzione energetica. Questo attuale conto di energia, che evidentemente potrebbe sempre essere, tutto può essere migliorabile, però prevede appunto una diminuzione scalare nei prossimi anni degli incentivi già a partire da quest'anno, che vede una certa diminuzione al confronto all'anno scorso. Consideriamo tuttavia che da 2010 a quest'anno il costo dei pannelli, che sono l'elemento primario di costo di un impianto fotovoltaico, sono scesi sensibilmente, sono scesi di un 10-15%, per cui delle tariffe ridotte del quarto conto di energia continuano a poter offrire l'opportunità di fare un investimento interessante nella costruzione di un impianto fotovoltaico. Ecco, Carlo Cotogni, vicepresidente esecutivo di X Group, è un'azienda italiana che produce celle e moduli fotovoltaici cristallini. Spiega invece che il ritardo con cui si è arrivati al decreto ha bloccato il mercato. Allora, sentiamo le sue parole. Il decreto del 3 marzo è partito da parte del ministro Romani con dei presupposti corretti, che erano quelli di rivedere gli incentivi che hanno stati fissati con la precedente legge entrata in vigore a gennaio. Su questo tutti gli operatori seri del settore si sono trovati d'accordo. Il problema è che in quel contesto, con quel decreto del 3 marzo, in cui è stato detto che ci sarebbero state date delle soluzioni entro il 30 aprile per quello che accadeva il primo di giugno, si è bloccato il mercato in attesa di queste nuove disposizioni che dovevano arrivare per trattare il mercato in termini di incentivi dal primo di giugno. Abbiamo sentito allora le parole di Cotogni. Dice che, secondo lui, si è bloccato il mercato. Altri, per esempio, Asso Solare, dicono che il provvedimento è antidemocratico. Queste le parole usate perché non garantirebbe continuità alle numerosissime piccole aziende, sorte proprio grazie agli incentivi precedentemente erogati. Lei cosa ne pensa? Evidentemente l'apnea che si è creata da inizio marzo ad oggi, siamo usciti dall'apnea appunto la settimana scorsa, è imperdonabile. In effetti questi quasi tre mesi nei quali non è stato possibile praticamente pianificare e realizzare impianti sono stati molto gravosi per gli operatori. Alcuni di questi operatori hanno sofferto gravemente di questa mancanza di progetti, di questo mercato che si è sospeso. Ora riprendiamo il fiato. Riprendiamo il fiato e abbiamo la certezza che l'attuale Conto Energia possa creare le condizioni per poter operare in modo proficuo e profitevole per gli operatori. del fotovoltaico. Alcuni di questi dovranno riconfigurarsi spostando l'attenzione magari su tipologie di impianto diverse sfruttando le caratteristiche tipiche di questo Conto Energia che premia come detto gli impianti sul tetto ma premia anche soluzioni di innovazione dal punto di vista dell'installazione che premia anche per esempio la sostituzione dell'amianto offre dei bonus particolari che possono rappresentare opportunità per gli operatori di beneficiare di questo nuovo schema incentivante. Sofia, il decreto ha sancito la retroattività di fatto del regime degli incentivi. Le aziende che avevano investito sulla base di certe tariffe di durata triennale a marzo hanno scoperto che cambiava tutto a partire dal primo giugno. È così? È parzialmente così. Il decreto non cambia le carte in tavola su impianti già realizzati e già connessi. Diciamo che il nuovo decreto mette a rischio determinate progettualità. Consideriamo che in Italia per fare un impianto di dimensioni medio-grandi l'investimento e il tempo anche di coltivazione del progetto è piuttosto lungo. Vi sono operatori che hanno investito parecchi quattrini nell'identificare siti idonei per costruire impianti per acquisire anche i permessi autorizzativi e ora si trovano con delle progettualità che sarà molto difficile poter portare a termine. Questa difficoltà è anche aumentata da una certa complessità che pone appunto il quarto conto energia che vede per esempio la necessità di iscriversi a un registro per poter avere l'autorizzazione a connettere poi l'impianto. Ecco, queste complessità causeranno una discreta mortalità di progetti sui quali alcuni operatori hanno già investito. Negherei il concetto di un effetto retroattivo per quanto riguarda gli incentivi. No, gli impianti già fatti e collegati a questi verrà garantita l'incentivazione. Ma pare che ci sia una certa incertezza normativa almeno a detta di Gianni Commessati che è il direttore commerciale del gruppo Energy System sempre intervistato da Matteo Parlato sentiamo che cosa ci ha detto. Diciamo che il 2010 è stato chiuso in maniera splendida per noi ottimi margini ottimi utili il primo trimestre del 2010 del 2011 scusate è andato bene siamo contenti è andato bene perché avevamo raccolto bene e seminato bene alla fine del 2010 adesso è un disastro. Lei consiglierebbe ad altri giovani imprenditori come lei di buttarsi in questo mercato? Certo sicuramente non in Italia in Germania potrebbe essere una buona opportunità. Qual è la pecca che ha l'Italia e che la Germania non ha? C'è l'incertezza normativa e questo non va bene per nessun investitore. Sofia su questo punto le chiederei un commento c'è incertezza normativa nel nostro paese? Una cosa che gli investitori straniere se guardiamo al breve termine se facessimo una fotografia dell'ultima settimana evidentemente l'incertezza è stata molto elevata se parliamo di opportunità di impiego se parliamo di opportunità di investimento industriale dobbiamo guardare medio e lungo termine se guardiamo medio e lungo io credo che le opportunità nell'ambito delle energie rinnovabili siano importanti le rinnovabili appartengono alla più ampia green economy e i prossimi decenni vedranno un grande sviluppo di qualsiasi aspetto legato per l'appunto a tecnologie e anche elementi economici legati a un minore impatto ambientale gli investitori se come investitori intendiamo gli investitori finanziari ecco in questo momento si sono un po' disinnamorati dell'Italia l'anno scorso investire in un impianto su grande scala fotovoltaico in Italia era il modo più remunerativo di investire i capitali per cui l'anno scorso abbiamo visto un assalto da parte di investitori finanziari esteri verso l'Italia questo non sarà più così ma non mi sento di dire che sia male tutto sommato perché questo assalto degli investitori finanziari internazionali comportava un utilizzo anche del territorio del terreno agricolo eccessivo per un impiego fotovoltaico quindi siamo più soddisfatti di un conto di energia che premia impianti medio-piccoli che consente ai cittadini italiani di poter sfruttare e approfittare di una situazione incentivante favorevole non tutti però sono pessimisti il nostro paese il fotovoltaico infatti sono un binomio che attira l'interesse di molti operatori stranieri tra cui i cinesi Matteo Parlato ha sentito Mario Zen vicepresidente business development di LDK azienda leader mondiale che va in controtendenza allora sentiamo la nostra azienda sta diventando la prima azienda al mondo nella produzione dei moduli fotovoltaici il governo cinese ci sta dando un grosso supporto a livello finanziario perché dobbiamo espandere la nostra produzione e dobbiamo espandere la nostra distribuzione e i nostri investimenti nel mondo abbiamo fatto un accordo strategico con la CDB la China Developing Bank che ci ha dato un finanziamento di possibilità di utilizzo fino a 9 miliardi di dollari e questo verrà sviluppato ed investito principalmente nei mercati più maturi l'Europa e l'Italia sono proprio quelli che noi stiamo per entrare in maniera molto pesante per poter utilizzare questi soldi sia per investire per finanziare e agevolare l'installazione del materiale fotovoltaico nelle case negli impianti a terra e negli impianti industriali quindi questo è anche per dare una mano agli installatori a utilizzare questo credito per poi pagarselo con lungo termine in parole povere se il governo italiano non darà le sovvenzioni al fotovoltaico rinnovabile voi per conto del governo cinese lo farete noi diamo sicuramente una grossa mano a chi vuole installare il fotovoltaico ad essere finanziato per poter arrivare quanto prima avere il proprio impianto a casa sua o nel proprio tetto industriale perché il problema del conto energia sta creando parecchi ritardi mentre noi il nostro moto ci arriviamo anche senza gli aiuti Ecosofia recentemente Assolterma l'associazione che riunisce i produttori di impianti solari termici ha detto che il decreto ha il merito di riequilibrare l'attenzione nei confronti delle termiche rendendo obbligatorio installarle sui nuovi edifici e spera si continui a sostenere il solare termico dopo la detrazione del 55% destinata a chiudersi il 31 dicembre 2011 che cosa ci può dire in proposito? Devo confessare che non sono troppo informato sulle dinamiche del solare termico per cui lascerei agli operatori di questo settore dare il mio punto di vista certo certo però invece c'è stata una reazione molto dura da parte del presidente di anima Sandro Bonomi che d'altra parte chiede addirittura che il decreto venga annullato o quantomeno che venga ripensata la distribuzione degli incentivi tra le diverse tecnologie auspicando la creazione di uno strumento di incentivazione stabile per lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili e per l'efficienza energetica in Italia è d'accordo con questo punto di vista? mi rendo conto che può esistere una situazione di concorrenza all'interno delle energie rinnovabili il fotovoltaico in questo momento richiama parecchio l'attenzione del governo e questo è dovuto al fatto che sicuramente è una soluzione energetica che presenta una serie di vantaggi la rapidità di realizzazione il fotovoltaico si può installare in qualsiasi copertura con tempi brevissimi di realizzo non richiede infrastruttura per quanto riguarda la distribuzione dell'energia elettrica poiché si può realizzare dove c'è dove c'è consumo quindi direi che la tecnologia nell'ambito della produzione di energia elettrica più votata per quanto riguarda un dare una mano verso l'indipendenza dalle fonti fossili che attualmente rappresentano il 60% della nostra produzione energetica ma che ci vede dipendere fortemente da altri mercati sono d'accordo comunque che così come il fotovoltaico sia giusto incentivare anche solare termico sia importante anche incentivare l'efficienza energetica il risparmio energetico questi ultimi due sono il modo migliore di produrre energia attraverso un non consumo per cui sicuramente siamo per un mix bilanciato di energie anzi è attraverso un mix energetico che possiamo puntare nelle prossime decadi a sostituire buona parte delle produzioni energetiche da combustioni fossili grazie grazie a Giuseppe Sofia amministratore delegato di Conergy per essere stato ospite nostro a Rai News grazie 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 a voi grazie a voi